Bella ragazzi, qui erano e bentornati, eccoci oggi con questo nuovo video, siamo tornati ancora sulla beta di Black Ops 3, probabilmente sarà l'ultimo video, a meno che questa sera non riesca a fare ancora qualcosina perché è l'ultimo giorno di beta Però sono tornato per fare con voi un altro live, in compagnia mia oggi c'è il buon Dread Bella riga E andiamo a provare Safeguard che è la nuova modalità che hanno messo su questo code, è abbastanza divertente, molto divertente, molto particolare, dobbiamo scortare un robot da un punto all'altro Standogli di fianco o comunque poi bloccare gli avversari e allo stesso modo proverò anche a usare un po' l'M8 che è un'arma che non ho mai usato negli altri due gameplay Quindi per variare un po' che è anche un'arma molto devastante e molto bella Per quanto riguarda il cecchino, oggi hanno fatto la patch però non ho tempo per mettermi qua a provarlo, a imparare a fare qualcosa di bello Probabilmente ci vedremo a novembre per quello Ma non perdiamo altro tempo, andiamo dentro con la partita, buona visione, raggiungiamo 20.000 mi piace ragazzi, a tra pochissimo, bella No, figlio di puttana, da dietro, what? Come ha fatto a uccidermi da dietro? Sei andato dietro o tu chiedi da dietro? No, cioè è andato al loro spawn e uno mi ha ucciso da dietro, che sarà il nostro spawn Guarda zio quanti Oddio quanti Scappa zio Oddio Panico, ho fatto una lasciata iniziale Panic rushing Oh no No, sicuro mi spavano dietro Mi spavano qua adesso sicuro Nessuno che tira uno avevo, io non ce l'ho, sono un idiota Eh, mi manca una kill, lo pio No, come metti c'è anche i punti, ne manca la merda Oddio, lì ce n'è uno Nessuno che guarda dietro, nessuno che guarda sopra Aspetta Eh, wap, wap, wap Ok, grande Gli tiro Boom C'è lo hub quindi, eh Ok Dai che andiamo a fare i cattivoni adesso Andiamo a fare le persone cattive Noi non mi spavano dietro Oh, oh Eh, via, via Beh, zio Bella Eh, le raps Oh, bella, c'è anche il viso Idiota, l'hai tirato te Vi amo a tutti Idoli Non mi può prendere, non mi può prendere così No, 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 no Non puoi proprio, zio No, non puoi Non puoi Non puoi, giochiamo a giro giro tondo L'ho preso Ah, ho giocato a giro giro tondo Hai goduto in questa cosa, però Si Faccia qua, questo Dai, giro di qua, l'ho preso Oddio, chi è che mi stava sparando? Il mio ATR? What? Ma chiedimi Ma non cambiano spawn, stanno così davanti, no Eh, si, infatti, mi sono spawnato di dietro No, ecco, infatti, di fianco mi sono spawnati, ero 20-0 Di fianco mi sono spawnati, maledizione Lì, proprio di fianco, di fianco Chi è che è invado? Te, anche te è invado, bastardo No, io sto dentro la casetta da mezz'ora, io Non ci chiede nessuno Ti passo il gameplay Passami il gameplay Lo cazzo stanno? Oddio, stanno dietro di me Stanno dietro? C'è uno spawn da cazzo Nooo, mi ha preso, ero cazzo, l'avevo preso, dove l'ho preso? Cosa? Hai detto preso venti volte in un secondo? Eh, si, ero concentrato nel preso Oddio, che culo qua, che culo qua Dai, 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 dai Aia Dai che tanto non lo prendo il nostro robottino Ho fatto solo assist io Io ho paura che arrivino qua da destra, infatti do uno sguardo No, non c'è un cane Faccio assist infiniti Eh, lì mi prende per forza, lì mi prende per forza Vabbè Vabbè, primo Eh, not bad Ho fatto venti in inizio che erano devastanti E poi sono morto come un idiota e sono continuato a morire No, il girotondo che ho fatto con quello di prima zio è troppo bello Ci dimetti di fare la musichetta No, perché io ero tipo stannato Vedevo giusto il radar capire dove era lui E continuavamo a girare intorno come due idioti Qualcuno che si metta qua c'è per forza Per forza Eh, lo so che tornavi lì Che per fa- NO! Non stava, oddio stava sotto Eh Perché io non ho ancora idea di come siano gli spawn di dove aspettarmi la gente Dove aspettarmi la gente? Eh sì, che arrivi da qualche parte, no? Qua possiamo fargli una chiusona di spawn trap Appena riusciamo a portarli un po' più avanti Dovemmo portare il robotino avanti Sì Aia, aia, ce l'avevo lì, ce l'avevo lì No, vado a fare le feedback, fai la cazzo del punteggio Mi vado a fiddare Stiamo tirando una granatina lì Occhio all'era CXD Oh tu, è incredibile Voglio sempre per le cazzate Dove è il robotino? Allora, eh, sono lì da aspettarci comunque Occhio Dentro? No, qua sopra Aia, 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 aia Ah no, sto tirando la lancia granate da super mossa Quasto che cazzo gli spara il mio robottino, bellissimo Ok C'ho un Tempest da usare ma voglio aspettare il momento di uso Non avrei voluto usare tre nel frattempo, eh Olpe la scialla Eh, però non mi parte l'istinto Uno guabba Allora, eh, grazie, magari Sarebbe comodo vero Marco Guardate che spawnano tutti da dietro Aia, 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 aia Sono un po' nei guai Olpe Ciao, qui mi sembrava un amico talmente rafflesciato Ma morite, prego Dai, grande Ok, va come muoio col Tempest L'ho aspettato per venti minuti e ma muoio Morirai subito Uno l'ho preso Ah, cazzo, nessuno se l'ha pigliato di fianco poi Figa come l'ho ucciso quello Ok Ho già pieno l'huac Che cazzo? Ho tirato giù C'è ancora quattro colpi Mori Poco tempo Vabbè Aspetta, eh Aspetta che gli tiro un Hellish to il rom L'ho stanno No, ma... Tutti lì Tutti lì dove? Tutti lì nati allo spawn Ma ci vorrebbe adesso un bell'huac perché nascono da sinì Da sinì da destra Da sinì da destra Da sinì da destra Non so, per dire sinistra e poi invece da destra perché hanno twitchato Hanno ributtato il loro bottino e abbiamo minuto e quaranta È forte del mondo Magari Riescono a... No, ho finito le armi Che brutto momento della vita Che schifo la vita Per te lo sento pezzi di mano No, ma ho ucciso Non ho più nulla, regà Come vado avanti a pugni? Eh, sì Mi devo suicidare Sono morto io sulle scale Eh, no, guarda L'Inet Glitch Eh, abbiamo minuto e 15 per tirarlo su, eh No, no, andiamo a tirarlo su Su, su No, madonna, c'è stato uno camperato su un albero Oh Jimmy, stanno andando fuoco Cosa è successo? Eh, io... No È tripla Cos'è? Oh, è con l'arco arrivato Mannaggia Con l'arco poi gli steccano giù il robottino in due secondi No, stanno tutti i camperati là Eh, sì Bisogna correre Non ce la faremo mai Gli ultimi tre metri Non ce la faremo Nuvola di fumo Oddio, va dove ha messo questo? Con cosa mi ha preso? Od... Oddio! Eh, dobbiamo provare tutto per tutto Poi mi ha volato uno in testa probabilmente degli nemici Ma non mi può fregare il cazzo Aia, aia, aia Oddio, l'ho liberato la zona Ma sei idee Scortiamolo tre metri Vai robottino Dai! No, ieri esplodò Sì! Nonno! Ce l'ho fatta, l'ho fatta due metri poi è arrivato qualcun altro a sacrificarsi 46-9, non male Va, va qualche bolgia di gente che si lancia lì E niente ragazzi Abbiamo fatto questa partita È andata anche abbastanza bene Con una bella strecchia iniziale Poi comunque sono usciti a vincerla E non è mai facile fare gli ultimi 10-15 metri di robottino Perché sono abbastanza bastardi Si crea una bolgia incredibile Comunque ringrazio il buon Andrea Trovate il canale in descrizione come sempre Raggiungiamo 20.000 mi piace Ci vediamo presto con tanti altri video Grazie a tutti quanti Alla prossima Bella!